Sono come sono, sono cosa sono. Cimeli di famiglia di Tatiana Olear Uli è una persona che non possiede cimeli di famiglia perché quelli che un tempo erano cimeli della sua famiglia sono diventati i cimeli di una famiglia tedesca. Non è che lei lo rimpiangesse granché, eh? A dire il vero, fino a un certo momento non ci aveva in tal proposito neppure speso un mezzo pensiero perché se una persona non sa che una famiglia dovrebbe avere dei cimeli non ne sente la mancanza. Eppure, quando Uli scartò i regali di nozze che i suoi suoceri avevano fatto a lei e a suo marito un brivido le corse lungo la schiena. Aveva tirato fuori dalla carta velina i soffici panni sbiaditi che avvolgevano le vecchie posate d'argento appartenute ai nonni del suo sposo e ancora prima ai bisnonni. Così pensò ai propri bisnonni. Avevano mai avuto l'argenteria? Molto probabilmente no. Probabilmente erano poveri, forse poverissimi. Uli non sapeva chi erano con certezza. Non lo sapevano nemmeno i suoi genitori. La storia della sua famiglia iniziava due generazioni prima della sua venuta al mondo. Un piccolo bilocale pulito, con pochi mobili e tanti libri. Così era la casa della mamma e del papà. E così era anche la casa dei nonni paterni. Quelli materni non c'erano mai stati. Sua madre era cresciuta in un orfanotrofio. Il suo era un piccolo universo poco affollato sia di persone che di cose. Adesso facciamo una piccola digressione. Vi farò una domanda alla quale non siete obbligati a rispondere. Rifletteteci pure sopra per conto vostro. Quando sentiamo la parola guerra, a cosa pensiamo di solito? Al fatto che uno Stato ha attaccato un altro perché un grande uomo o un grande governo ha deciso così? Pensiamo agli scontri delle civiltà? Alle svolte paradigmatiche? All'ultimo mezzo della politica? Tutto questo è vero. Ma se si fosse trattato di noi stessi, penseremmo forse alla paura di perdere la vita? Alla paura di perdere i nostri cari, la nostra casa? E le nostre cose? Ulia pensava spesso alle cose. Non alle cose preziose, ma a quelle piccole. A quelle che avevano significato probabilmente solo per lei. Ad esempio alle bambole che aveva in casa sua suocera. Erano vecchissime e appartenevano alla famiglia da generazioni. Se Ulia avesse avuto una figlia femmina, queste bambole sarebbero diventate sue. Quando la suocera glielo diceva, Ulia annuiva. Ma tra sé e sé, sperava che al momento opportuno avrebbe cambiato idea. Le bambole le sembravano orrende. Oltre alle bambole c'erano i fazzoletti, tovaglie, la macina per il caffè e altri oggetti arrivati dal passato. Ulia li guardava e pensava di nuovo ai propri bisnonni misteriosi. Anche se erano poverissimi, possibile che non avessero lasciato proprio nulla ai figli. Ad esempio le fotografie. In casa di suo marito c'erano tante fotografie. Ulia si era messa a rovistarci dentro perché avrebbe voluto radunare quelle in cui lui era ancora bambino. Ce ne erano poche. Come erano poche le foto di ogni altro membro della famiglia. Solo che i membri erano tanti. Tante facce di tante epoche diverse che la fissavano dai cartoncini in bianco e nero. Ma dove erano finite le foto dei bisnonni di Ulia? Anche la casa dei suoi genitori era piena di foto, ma raffiguravano quasi sempre lei, i suoi fratelli e la madre. Quelle dei bisnonni ci sono mai state? Forse erano così poveri che non potevano permettersi nemmeno le foto. E le lettere? Possibile che non si scrivessero tra di loro. Forse stavano sempre insieme. E i documenti? Insomma, chiunque loro fossero, dove era finito il loro archivio? Ulia sapeva che nessuna nuova generazione della famiglia aveva vissuto nello stesso posto della precedente. Allora forse le foto, le lettere, i documenti si persero durante i viaggi e i traslochi? Ma aveva emigrato anche lei. Sapeva come funzionava. Quelle cose la gente le porta con sé. Un giorno ricevette una telefonata. Sarebbe venuta a Parigi per qualche giorno la sua zia degli Stati Uniti. Ulia l'aveva vista una volta quando aveva cinque anni. Poi, a causa dell'ennesima svolta paradigmatica, la zia aveva emigrato. Ulia non viveva a Parigi e, a dire il vero, nemmeno in Francia. Ma si sono accordate di incontrarsi davanti alla Tour Eiffel e Ulia ha preso il treno. Le due donne non si erano viste in faccia da più di vent'anni, ma si sono riconosciute in mezzo alla folla di turisti. Avevano gli stessi occhi. Tu hai gli occhi di mio padre, disse la zia. Gli stessi che aveva anche il tuo bisnonno. Tu sai che aspetto aveva? Sì, ho le foto. I rimasugli dell'archivio familiare li aveva lei in America. Qualche mese dopo, la zia le mandò un po' di file acrobat e Ulia poteva vedere i volti dei suoi antenati. Consultò i documenti che riportavano le condanne all'esilio e certificavano la riabilitazione. Lesse le lettere dai quali si poteva desumere quando, dove e perché si erano spostati e visionare altri documenti che certificavano la loro provenienza da un paese straniero, l'acquisto e il sequestro delle proprietà. Non c'erano certificati di morte. Ne parlò la zia ancora a Parigi. Ulia poi collegò il racconto a una strana gita che le aveva fatto fare suo nonno quando era ancora piccola. Sì, avete ragione. Ulia non è una persona molto sveglia. Scommetto che voi avete già fatto 4 più 4 e avete intuito da un pezzo ciò che lei non aveva capito per molti anni. I suoi bisnonni erano ebrei bielorussi. Erano stati sterminati. La loro casa fu rasa al suolo. E le loro cose erano diventate bottino di guerra. Solo come suono Farse neanche buono.